che succede qua respinto i ricorsi di lukaku ma come mai in italia lo si può esultare così in europa in champions league si può esultare cioè qua l'avete ammunito l'avete espulso ha avuto la squalifica l'italia il paese dei balocchi il paese dei pagliacci la figici e pagliacci come la juventus voglio potete andare a mano a mano